Allora Beatrice, sei la damigella di questa edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna, che cosa provi ora? Sono emozionatissima, non me l'aspettavo, ci siamo impegnate tanto, anche con le responsabili, veramente. Io ho cercato di fare il meglio, è andata bene, ero emozionatissima, soprattutto per la parte di recitazione, perché io proprio non l'ho mai fatto. Però vabbè, una bella sorpresa. Ringrazio tutta la mia squadra, l'Aivana, l'Anna Maria, la Marisa, la Laura, la Fiorella, tutte le mie responsabili, tutti i miei cari che sono qua a fare il tifo, i miei amici, tutti quanti. Benissimo, allora buon palio, grazie. Grazie, grazie anche a voi.